Una vera e propria mappa del pizzo in passato chiesto ad imprenditori ed esercenti della città. L'hanno tracciata diversi collaboratori di giustizia sentiti nel corso del dibattimento successivo all'inchiesta Falco. Tutto sarebbe ruotato intorno alla 33enne Gianluca Pellegrino, era il figlioccio di Francesco Vella, così l'hanno descritto ex capi delle famiglie locali per i PM della DDA di Caltanissetta. In aula con il magistrato Matteo Campagnaro, proprio Pellegrino, sarebbe stato il tramite per la presunta riorganizzazione della famiglia Emanuello. Lo conosco fin da quando era bambino, ha detto Emanuele Cascino, già fedelissimo del boss Peppe Alferi, suo che si occupava delle estorsioni per conto degli Emanuello. Ha precisato, sarebbe stato Pellegrino ad aprire messe a posto ai danni di un imprenditore edile che in passato ottenne subappalti per la costruzione dell'acquedotto Gela Ragona, ma anche di diversi commercianti e ristoratori. I danneggiamenti li facevamo sempre noi del gruppo Alferi, ha proseguito Cascino. In quel periodo dopo gli arresti la famiglia Emanuello non era messa bene. Quando venne scarcerato, Pellegrino iniziò a girare per le estorsioni con il figlio di Daniele Emanuello, un certo crocifisso, ha spiegato ancora il collaboratore di giustizia. L'imprenditore edile sarebbe stato avvertito con l'incendio di un pulmino che usava per gli spostamenti dei propri dipendenti. Il titolare dell'azienda, in aula davanti al collegio penale del tribunale, preseduto dal giudice Miriam D'Amore e all'atere Mari Camarino e Silvia Passanisi, ha però ritrattato molte delle dichiarazioni rese in precedenza agli investigatori. L'imprenditore, titolare di un'azienda impegnata sia nel settore edile che in quello metalmeccanico, è stato piuttosto reticente nel rispondere alle domande. Emerso inoltre, su eccezione sollevata dal legale di Pellegrino, l'avvocato Giacomo Ventura, che proprio l'imprenditore è stato indagato per favoreggiamento. Pizzerie, rivendite di fiori, una gelateria, un punto vendita di prodotti per la casa, sarebbero state tutte attività commerciali visitate da Pellegrino per conto della famiglia Emanuello e sempre sotto il coordinamento dei capi storici. In quel periodo ancora in libertà, una conferma in tal senso è arrivata dai collaboratori Gianluca Gammino e Paolo Portelli, oltre che dallo stesso Cascino, ex figlioccio di Peppe Alferi. Carmelo Billizzi ha detto, Gammino mi diede un elenco di commercianti sottoposti ad estorsione.